Senti, bisognava vincere di quattro, difficile anche commentare, un Beretta qui è girato tutto bene, buona la difesa, ottime le percentuali, alcune prestazioni maiuscole, la solita Cheryl Ford, Kikamaki sembra essere ristabilita dopo l'influenza, ti sei permesso anche un'ampia rotazione, insomma serata molto buona. Sì, una serata che l'abbiamo fatta diventare buona perché le ragazze concentrate continuiamo con questa mentalità di difendere forte, di tutte quelle che entrano in campo partono dalla difesa e di fare qualcosa per la squadra. Questa è la mentalità che dobbiamo avere, che dobbiamo continuare a crescere e soprattutto a crescere in tante situazioni che stasera sicuramente abbiamo fatto bene e abbiamo incanalato nella partita nella maniera giusta. Poi abbiamo potuto far riposare McCarville, abbiamo potuto dare spazio a tutti e tutti quanti hanno risposto bene che questo è importante perché certe volte non succede, invece devo dire che tutte hanno risposto alla grande. Voglio ringraziare il nostro trio Aldo, Giovanni e Giacomo perché sembra il trio Comica, invece sono il nostro mancettatore, il nostro medico e l'altro massofiosiaterapista perché stanno lavorando tanto per mettere queste ragazze sempre in condizioni e farcele trovare sempre a buon punto o non farci soffrire troppo. Il fatto che la partita abbia preso questa direzione è un'altra nota positiva in vista dell'impegno di domenica contro Taranto, no? Beh, fino a diciamo dieci minuti fa eravamo concentrati su questa perché questa per noi era fondamentale per l'acquisizione di un posto per continuare la nostra avventura in Eurolega e per continuarla bene. Adesso ci concentreremo due giorni per concentrarci su Taranto perché sappiamo che ci giochiamo il primo posto.